Che cosa è successo nelle ultime ore che hanno preceduto la morte del calciatore argentano Denis Bergamini? Nella terza udienza del processo che vede l'ex fidanzata del calciatore Isabella Internau accusata di omicidio volontario, sono stati ricostruiti i momenti di quel 18 novembre del 1989, giorno in cui il corpo del giocatore del Cosenza fu trovato senza vita sulla statale 106 in una piazzola all'altezza di Roseto Capospulico. Sono tantissimi i dettagli confluiti nell'indagine. La terza, a 32 anni di distanza dai fatti, nell'aula del Tribunale di Castrovillari gli operatori di Polizia Giudiziaria Ornella Quintieri e Pesquale Pugliese hanno presentato il lungo lavoro investigativo che suggerisce la pista di un delitto passionale. Come riferito dai test e nella seconda udienza, gli inquirenti avrebbero trovato riscontro della gelosia ossessiva dell'ex fidanzata nei mesi precedenti la morte del calciatore di Ferrara. Interno temeva di essere lasciata dall'astronascente del calcio italiano. Lo scopo della ragazza sarebbe stato quello di sposare il calciatore, ma i progetti di Bergamini non includevano Isabella Interno nel suo futuro. Per questo la ragazza avrebbe organizzato l'omicidio, aiutata da qualcuno che non è ancora stato identificato. Denis Bergamini venne trovato morto in una piazzola di sosta lungo la statale 106, poco distante dalla sua Maserati. Per anni le indagini su quella misteriosa fine si basarono sulle dichiarazioni rese dall'ex fidanzata, testimone oculare. Parlò sempre di suicidio, di un tuffo del calciatore sotto un camion di passaggio che l'avrebbe schiacciato e ucciso. Ma la famiglia del calciatore in tutti questi anni non ha mai creduto a una versione in cui non rivedeva nulla del 27enne sereno all'apice della carriera calcistica e con ambizioni dichiarate. Così Denis si mostrava anche in tv. Poche settimane prima della morte Bergamini rilasciò ad una emittente televisiva calabrese un'intervista portata dai test in aula giovedì 25 novembre. Spero di giocare in Serie A, sarebbe bello farlo con il Cosenza anche se non è facile. Sulla mia vita aprendo quello che viene, mi piace vivere. Le sue frasi, parole che stridono con la descrizione di un giovane infelice capace di compiere un gesto disperato come invece lo ritrasse la internò.